Ciao bentornati sul canale, allora oggi una mini suota la spesa Lidl, sono andata a fare un giro così avevo bisogno di prendere proprio giusto due cose e ora ve le faccio vedere. Allora della Valerica ho preso della mista sottile e della Valeriana perché sono molto buone queste insalate e costano a volte 85 centesimi, 90 centesimi. Poi delle melanzane sott'olio così non prendo quasi mai vasetti ogni tanto però ogni tanto mi viene lo sfizio di assaggiarli. Poi in offerta c'era 1,19€ del petto di tacchino e sempre con 1€ di sconto della Bresaola Black Angus a 1,89€ la confezione per un etto con del prosciutto. Poi delle sottilette queste qua magari io le utilizzo per fare degli involtini, del pane alla segale, delle linee senza lattosio ho preso questa mozzarella per me e dello stracchino. Un consiglio, spesso e volentieri loro nella parte frigo mettono appunto questi bollettini a ribasso, 50% di sconto. Magari hanno una scadenza di un giorno o due però è sempre un modo per risparmiare soldi, insomma guardate perché veramente spesso e volentieri hanno queste scatole con il ribasso. Sempre di questa linea ma anche di tante altre cose. Poi ho voluto provare a prendere questa pizza senza glutine e senza lattosio, credo che utilizzino la loro mozzarella sempre della linea Free From. Vediamo com'è, vi farò sapere, vi farò una recensione su questa pizza senza glutine. Vediamo come si comporta, l'assaggerò e vi farò sapere. Dopodiché ho preso queste patatine stick house, sono molto buone, sono grandi, 750 grammi, le trovate sempre a 1 euro, quello è il prezzo fisso. Tre rotoli di scottex, di coton fioc, pepe e peperoncino perché li avevo finiti e fortunatamente ho ancora trovato questi medaglioni alle verdure grigliate di cui vi ho fatto un video recensione. Quindi presto uscirà e vi farò sapere. E niente, questa è la mia spesa. Grazie. 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 Grazie.